cioè raccontaci un aneddoto matto un aneddoto matto sarà successo qualcosa di matto durante la creazione dell'album durante grazie magari verso la fine che tipo una settimana prima della consegna del disco a te ha voluto cambiare la strofa è questa è proprio successo posso dire è proprio da mario proprio da mario mi facesti ascoltare forse un qualcosa a febbraio a quanto pare ci sono degli equilibri che non puoi semplicemente farla traccia e farla uscire ogni ogni personaggio dice no poi ho il mio disco che deve uscire no ho questo progetto in ballo che non mi permette di quindi immagino avere quanti quanti artisti sono nel tuo disco 34 più me 35 porca puttana 34 35 persone da mettere d'accordo sul periodo di uscita no ma poi capito quello che ti dice no la sporca la doppia che due coglioni non è un lavoro di pazienza la cosa greve lo sai quale è stata che verso la consegna del disco tutti hanno detto è però la strofa un po' vecchia il beat mi suona vecchio erano tutti un po indi non tutti va bene un po però un po' erano indecisi prettono da miretta da miretta alla fine mi hanno dato retta ed è andato tutto bene però male sono tante teste da gestire 34 artisti ogni tanto che su una combo no gli artisti ne ho portato l'altra artista ciao bro da meno a mano a cominciare in cellar si e si